Melegoni, l'ultima partita prima della sosta ha detto che sei un giocatore che in bici sta bene e hai messo in grossa difficoltà una pillonna per le scelte lì con Maschine. Sicuramente sono molto contento di questo. Il mio obiettivo è quello di poter dimostrare di giocare in questa categoria e questo lo posso dimostrare solo allenandomi bene, arrivando alla partita con la fiducia del mister e dei miei compagni. Tra l'altro, in quella partita con il Livorno, un'azione mi è piaciuta molto nel primo tempo quando sul suggerimento di Antonucci sei andato proprio dentro con il classico taglio della mezzala, quello proprio che vi chiede Pilon, cosa che hai ripetuto il secondo tempo facendo 40 metri di corsa andandoti a prendere il rigore. Sì, diciamo che è una caratteristica che ho, ho sempre giocato da mezzala, comunque questi inserimenti mi appartengono e se so che possono mettere in difficoltà le altre squadre ne farò il più possibile. Adesso chiaramente non vuoi più uscire? No, sicuramente no, diciamo che non è che ho il posto assicurato assolutamente, però devo darmi da fare sempre durante gli allenamenti e dimostrare che posso avere la maglia da titolare. A Brescia c'è un giocatore che è anche più giovane di te, classe 2000, che ha i capelli alla Pirlo, che si muove come Pirlo e che con Melegoni potrebbe rappresentare il futuro del centrocampo italiano, parliamo di Tonali. Sì, è un ottimo giocatore, ho giocato assieme a lui e agli europei, abbiamo fatto un'ottima esperienza arrivando a secondi all'europeo e sono contento di rivederlo domenica e sabato, sperando di essere tutti e due in campo. Come si ferma? Come si limita Tonali? Sicuramente il mister ha preso i giusti, ci siamo adattati giustamente ad avere questo play e a fermare anche loro tre quarti, perciò il mister saprà sicuramente come saper accorciarlo. Certo, però, e chiudiamo in un futuro Tonali, Melegoni, futuro Tinto di Azzurro, ci stai pensando? Beh, sicuramente sono sogni che ogni bambino spera che si avverino. Tutto questo dipende da noi e da come andranno le nostre partite.